De Michelis a servizio, riceve Mangani male questa volta, Salvatutto Boldina ricorda l'altra parte, può ricostruire De Michelis in bagger per l'attacco di Sbirnova che chiude, qui 7-15, allora Perugia espugna il pala su Raci di Palmi, 2-3, si aggiudica la vittoria, una vittoria da due punti, un punto per il Valle Soverato che comunque torna a muovere la classifica dopo due sconfitte per 3-0 consecutive. Coach Fabio Bovari, il suo Perugia accoglie una vittoria sofferta ma importantissima qui a Palmi contro il Valle Soverato al termine di un tie-break comunque giocato con esperienza e solidità dalla sua squadra dopo aver perso il quarto set, due punti importantissimi per la classifica alla luce anche della vittoria di Trento di quest'oggi. Assolutamente, è colto, sapevamo di affrontare una squadra che può ruotare su molte più pedine, l'abbiamo visto, è ben allenata, è una squadra che ha del potenziale e lo ha espresso, l'ha espresso nella prima parte del girone, lo sta esprimendo tuttora oggi essendo protagonista nei play-off, quindi sapevamo che era faticoso e noi avevamo un'incombenza di vincere. È andata bene, siamo stati anche fortunati. Un po' altalenanti nel corso del match come anche gli ultimi match di Perugia in questo frangente di stagione, come diceva lei avevate l'incombenza di vincere, forse questo vi ha un po' in alcuni frangenti di gara condizionato perché sapendo anche che Trento aveva già vinto era importante per voi far punto? Assolutamente sì, era importante ma mi viene da ridere perché quando andiamo a confrontarci diciamo sempre la stessa cosa e adesso non ho capito una cosa, ma il fiato sul collo noi dovremmo averlo, ma c'è anche chi ha il fiato sul collo perché deve spingere per ottenere il risultato. In questo momento però Trento è veramente sul pezzo e noi dobbiamo continuare a lavorare. Mancano due partite, l'ultimo sforzo per ottenere questa promozione, saranno due partite comunque difficili come si stanno rivelando anche tutte quelle di questa pool promozione, oggi anche abbiamo visto che sono maturati dei risultati importanti sugli altri campi. Allora io non ho visto i risultati, tu me ne hai citato uno che sapevo perché questo era l'unico che mi era arrivato e dall'altra parte sapevamo e tutti sanno che fa i playoff che sono dieci finali, quindi chi arriva in cima ad aver vinto più partite rispetto alle antagoniste probabilmente si porta a casa 1-1. Goci Bruno Napolitano, il suo verato innanzitutto torna a muovere la classifica, un punto importante conquistato contro la capolista Perugia, una bella prova delle sue ragazze di carattere, oltre che una bella prova di gioco, quindi si può ritenere soddisfatto. Ma guarda, stasera credo che più che mai bisogna fare un plauso a queste ragazze perché fare una prestazione di questo tipo contro Perugia dopo le due settimane a dir poco travagliate che abbiamo vissuto, io credo che sicuramente una squadra con un grande cuore, un grande attaccamento alla maglia e oggettivamente anche con grande capacità di interpretare la partita tecnicamente, tatticamente, può venire fuori da una situazione del genere. Quindi da parte mia, mi ripeto perché questi complimenti li ho già fatti, ma veramente oggi ancora più mai un grazie a queste ragazze che ci stanno regalando delle emozioni incredibili e oggi ancora una volta hanno dimestrato che cuore hanno e che capacità hanno. Grande carattere, sotto 1-0 hanno reagito, sotto 2-1 hanno reagito, ha chiamato in caso a tutte le giocatrici disponibili il coach napolitano ad eccezione di Boriassi che era infortunata, poi ha problemi anche se non vado a rato per Arley durante la partita, quindi un soverato che nonostante anche le difficoltà per via di alcuni acciacchi è riuscito comunque a tenere testa alla capolista. Ma guarda, sapevamo di Boriassi, è stata ferma tutta la settimana perché purtroppo questo problema alla schiena la sta attormentando. Ilari aveva questo problema al ginocchio, l'abbiamo dovuta mettere in campo lo stesso, adesso il problema è capire l'entità dell'infortunio perché ovviamente nelle condizioni in cui siamo ci auguriamo tutti che non sia un'infortunio di grandi entità perché questo complicherebbe parecchio il cammino. Questo punto a maggior ragione potrebbe valere orocolato, adesso non so gli altri risultati, però vogliamo maledettamente entrare in questi play-off perché ce lo meritiamo, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con tutti, avevamo 2-2 mila in campo, 2-99 e 1-96. E questo veramente secondo me la dice lunga su quella che è la capacità e la qualità di questa squadra, quindi ci crediamo, vogliamo arrivare a questi play-off che sarebbe veramente il giusto premio di una stagione straordinaria.